Allora, lei scida sulla validezza, e chi è che c'è una cartina? Mi no. Niente, più grande, niente. Cartina, 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 cartina. Date noi, di noi, che da lì, ecco, bravo. Allora, quanti chilometri dobbiamo fare? E di 10 minuti a prendere. E beh, 10 minuti a... Se perdono la strada, quindi... Ho vinto. Ho un panuffo. Ho visto e lei, sono due, eh? Tre. Castoro, 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 presto. Ragazzi, alle 10, siamo a morire. Quattro. Eh, gira, gira, che a chi sarà un po' come i balli, eh? Allora, la mia è più facile. Ecco, l'ha detto che... Ecco, diciamo una sciura... Diciamo una sciura sull'altro. Cioè, adesso sotto a chi non può una parola, adesso vi devo sentire. Tenchi, noi siamo in quella... Bene, dai la cartina allora, Raffaello. Dica su. Ecco. Adesso, vieni. Adesso, vieni. Adesso, vieni. Adesso, vieni. Adesso, vieni.